Partiti in fermento a Taranto in vista delle elezioni politiche di febbraio, ma soprattutto alle prese con i tempi ormai strettissimi di preparazione delle liste elettorali. Tra sorprese e conferme a Taranto sbarca il Movimento Arancione, la rivoluzione civile guidata dal magistrato Antonio Ingroia. Come anticipato confluiscono nel rassemblement del PM siciliano l'ex assessore al bilancio del Comune di Taranto, ex candidato sindaco alle scorse elezioni con noi democratici, Dante Capriulo, ex DS ed ex PD. Ma non solo, a far parlare è anche la candidatura al fianco di Ingroia del consigliere comunale tarantino e leader nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli. Il partito del sole che ride fa sapere Bonelli ha deciso di sostenere la rivoluzione civile di Ingroia per un'Italia equa e per archiviare definitivamente le scelte del governo Monti che hanno demolito le politiche ambientali del paese, impoverito i cittadini e fatto crescere a dismisura la povertà usando i sacrifici degli italiani per pagare i debiti delle banche. E se nel PD e in SEL i giochi sono fatti con le liste quasi pronte al decollo dopo le primarie per la scelta dei candidati al Parlamento, nel PDL invece i giochi sono ancora apertissimi. Ancora da definire intanto le regole delle candidature e il numero delle liste. Se si dovesse decidere di sbarrare la strada ai parlamentari con già tre legislature alle spalle, a Taranto ne farebbe le spese il senatore martinese Lino Nessa. A guadernare invece potrebbe essere il consigliere regionale, anche lui martinese Gianfranco Chiarelli, primo degli eletti del PDL in regione. Ma della partita sono anche altri due avvocati, il Ginosino e consigliere regionale di lunga data Pietro Lo Spinuso e il tarantino Arnaldo Sala. Ma tutto è ancora da vedere anche alla luce dell'ipotetica lista del mezzogiorno, in cui non è esclusa a Taranto la candidatura di personalità eccellenti. La partita è aperta.